Claire Audrin e Linora di Odrutz, quartetto EOS Envoy. Ecco i nuovi artisti Under 35 premiati da Lazio Sound. La seconda edizione di Lazio Sound nel 2020 ha scandagliato il territorio alla ricerca dei talenti che ha raccolto in cinque categorie Urban Jazzology, God is a Producer, Songwriting Heroes, I Love Mozart. Un percorso che ha portato alla vittoria questi cinque progetti musicali di giovani artisti che con il loro sound confermano l'originalità delle proposte musicali della regione Lazio spaziando tra elettronica, musica classica, rap, jazz e cantautorato. I cinque vincitori delle categorie sono stati selezionati dai giudici di Lazio Sound e attraverso il voto del pubblico proprio per fare in modo che i talenti fossero espressi anche dal territorio. Quello che emerge da questa edizione è la vivacità e la varietà della scena musicale della regione Lazio, tanti gli artisti che sperimentano e cercano forme di espressione diverse fondendo culture e musiche. Una nuova generazione preparata tecnicamente che si prepara a fare della musica la propria professione e in questo Lazio Sound come parte dell'investimento che la regione Lazio sta compiendo sulle politiche giovanili diventa facilitatore di nuove opportunità anche attraverso i premi messi in palio che hanno lo scopo di valorizzare i giovani talenti sostenendoli nelle fasi più difficili della loro carriera. E proprio in questa direzione vanno i premi del contest che sono la produzione professionale di un brano e di un videoclip, il sostegno alla distribuzione digitale del brano prodotto, una consulenza di comunicazione e l'ufficio stampa a seguire il lancio del singolo, una consulenza strategica nella gestione dei social durante il periodo di promozione del singolo, la promozione attraverso il live streaming su media internazionale rilevante di settore e un'occasione di formazione attraverso la partecipazione al Lazio Campus durante il quale gli artisti potranno imparare da professionisti il funzionamento del music business.